Arte a 360 gradi per l'edizione 2016 del Festival Ruggero Leoncavallo, che candida Montalto Fugo a diventare a pieno titolo città del cinema oltre che della musica, grazie al Festival Cinematografico brevi d'autore Alessio Mazzuca. Il Festival di Leoncavallo deve avere una caratterizzazione culturale che va al di là di quello che può essere il dato iniziale, quello della musica e della musica lirica in particolare, ma noi abbiamo voluto inserire come ho detto più volte in questo contenitore anche altre situazioni come la prosa, come il cinema appunto nella forma del corto e anche la poesia. Una precisa volontà dell'amministrazione è quella di valorizzare le iniziative che già si svolgevano sul territorio di Montalto e brevi d'autore è sicuramente una rassegna importante, un lavoro importante fatto da Nicola Cosentino e da Rita Russo che sta dando soddisfazioni e risultati importanti e contiamo di valorizzarla sempre di più. Grazie anche al sostegno dell'amministrazione comunale di Montalto Fugo il Festival Cinematografico brevi d'autore Alessio Mazzuca in questa terza edizione è cresciuto in maniera esponenziale. E' molto cresciuto in questi tre anni sia in termini di partecipazione che di qualità dei corti che riceviamo, arrivano da tutte le parti d'Europa, anche dal Giappone abbiamo avuto dei partecipanti, sono stati così tanti che ne abbiamo ammesso 24 quest'anno a fronte degli 11 dello scorso anno. 24 i cortometraggi in gara dunque, ma solo due i vincitori. Il premio della giuria popolare di 500 euro offerto dal comune di Montalto è andato a Bellissima di Alessandro Capitani, mentre il vincitore assoluto è stato Daniele Barberio con Mirror. Nell'edizione di quest'anno infine c'è da sottolineare che gli autori, pur avendo un tema libero, hanno guardato prevalentemente a due aspetti della società. Quest'anno abbiamo constatato una tematica predominante che è quella dell'anzianità e soprattutto anziani allegri, insomma, che vivono bene la vita, che cerchiamo di affrontarla al meglio e diametralmente opposto alla tematica dell'infanzia, quindi anziani e bambini prevalentemente.